Ciao a tutti, sono Carlo Attolini e insieme a Stefano Bagnoli, mio maestro, amico e collega batterista, ho pensato e scritto un metodo didattico per la batteria. Il libro è pensato apposta per tutti coloro che vogliono approcciarsi a questo strumento, indipendentemente dall'età. All'interno del metodo troverete esercizi di tecnica, di lettura, quindi solfeggio ritmico, sia esercizi da svolgere individualmente che duetti che potrete svolgere con i vostri amici o col vostro insegnante ed esercizi di coordinazione. Tutti gli esercizi sono scritti in maniera graduale con una grafica molto semplice, accattivante, intuitiva. Non vediamo l'ora di accompagnarvi in questo fantastico viaggio musicale che speriamo possa appassionarvi. Grazie a tutti.